Via Calore, Borgo San Nicola, periferia nord di Lecce. Il complesso di appartamenti, murati a metà nelle porte e nelle finestre, abbandonati e pericolanti, racconta una storia a se stante, fatta di incuria, degrado e sporcizia. Appena si varca quello, che sino a qualche anno addietro era l'ingresso, ecco apparire lo scempio, totale e mortificante. Siamo in Via Calore, Borgo San Nicola, alle mie spalle una vera e propria discarica a cielo aperto, rifiuti di ogni genere, auto, motorini abbandonati e alla mia sinistra quello che resta di una palazzina ormai cadente e pericolante. Qui tra Erbaccio e Rovi si trovano rifiuti di ogni genere, scarti di lavori di edilizia, mattonelle, bustoni con vestiario usato, scarti alimentari, vecchi giocattoli e vecchi mobili, che un tempo arredavano quelle case dichiarate poi inagibili. Ma non solo, anche un camion fermo da chissà quanto e quel che resta di tre scooter, con targa ancora ben in vista. Facile immaginare, superando la recinzione metallica che delimita l'area del cantiere ormai dismesso, perché qualche anno addietro quelle palazzine popolari vennero anche sottoposte ad interventi di risanamento urgenti, che qualcuno trovi ripare al loro interno, utilizzandole come rifugio di fortuna o come luogo per attività poco lecite, lontano da occhi indiscreti. Uno scempio in un rione che passo dopo passo si sta rifacendo il look. Ed avvegliare pietosamente su quello che ormai è un monumento al degrado, all'abbandono e all'incuria, la nuovissima parrocchia di San Nicola da Mira. Tra i residenti nessuna voglia di parlare di quel mostro in cemento che giorno dopo giorno perde pezzi e che rappresenta un rischio per tutti. Anche il parroco della parrocchia di San Nicola da Mira, Don Cosimo, ha poche parole da aggiungere. Dice solo di aver chiesto l'intervento di vigili e del comune, ma per ora ha solo ottenuto un cestino dei rifiuti ed un contenitore per la raccolta degli abiti usati. Intanto, sul pannello 6x3 posizionato all'ingresso del cantiere, la scritta che indica la fine dei lavori, aprile 2017, continua a sbiadirsi inesorabilmente.